aiuto aiuto mi sono preso un virus no non io il mio computer e che non sono andato a votare il nuovo parlamento me lo sono scaricato pirata da internet e solo che mi sa che dentro ci stava un virus e ecco vedete e adesso non mi si apre più internet non posso andare sul sito dell'hanza non posso andare su quello di repubblica punto it mi si apre solo il blog di beppe grillo e io così non non so chi ha vinto sono tagliato fuori dal mondo io non so chi ha vinto ma non le elezioni gli oscar chi ha vinto gli oscar le elezioni chi se ne frega tanto quelle che contano veramente si terranno a marzo il conclave no chi governa veramente l'italia è il papa quindi chi ha vinto queste elezioni non conta niente eccolo di nuovo sarola un tecnico ecco cosa ci vorrebbe un tecnico sia per il mio computer sia per il governo sì perché a me piacciono i tecnici infatti io monti l'avrei pure votato se solo non si fosse candidato a me piacciono i governi tecnici perché nessuno li ha votati e a me un governo che nessuno ha votato mi ispira fiducia specie in un paese come l'italia dove di elezione in elezione l'elettorato si è sempre distinto per uno spiccato cattivo gusto aiuto ci vuole un tecnico un tecnico dall'europa dal bce da un tecnico aiuto